La scatola si presenta così. La scatola si presenta così. Porta penne, porta bicchettine. L'unica cosa negativa sono sti gancetti in plastica. L'imbattitura un po' troppo durina. L'interno, bello, bello, mi piace. E' fronte, porta filtri, SD e tutt'ana dei lavori. Sotto ci sono i gommini, se volete appoggiarla a terra. E devo dire pure che è abbastanza grande. Vabbè, per comprarla trovate il link in descrizione. Ciao. 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 Ciao.